Oggi 16 novembre è la giornata mondiale dedicata alla sindrome di San Filippo, una malattia rara e neurodegenerativa che colpisce i bambini privandoli progressivamente di tutte le capacità acquisite nei primi anni di vita. Nel Vallo di Diano è conosciuta per la storia del piccolo Michele e mamma Erika di Sala Consilina, ma poche persone ne hanno sentito parlare. È necessario diffondere questa amara realtà per aumentare informazione e consapevolezza. Maggiore la visibilità, maggiori saranno gli aiuti che riceveremo, dicono dall'Associazione San Filippo Fighters, unico punto di riferimento per la sindrome in Italia. Erika ne fa parte dal marzo 2021, quando dopo una lunga odissea, durata sei anni, ha avuto la diagnosi e ha dovuto fare i conti con la amara scoperta e confrontarsi quotidianamente con una malattia rara dal nome impronunciabile, meglio nota come sindrome di San Filippo. I bambini, come Michele spiega, nascono apparentemente sani, ma verso i tre anni iniziano a manifestare i primi sintomi della malattia, iperattività, difficoltà cognitive del parlare, problemi cardiaci, perdita di mobilità. Troppo spesso non superano l'adolescenza. La cosa più importante è il tempo, il tempo presente, e con questa consapevolezza impariamo a vivere un giorno alla volta, un'ora alla volta. Io, da mamma di Michele, so che non troverò una cura per mio figlio, ma il mio impegno è rivolto al futuro, per finanziare la ricerca e fare in modo che altri bambini e altri genitori non vivano questa condizione. Sono molti i progetti con cui l'associazione prova a finanziare la ricerca e contemporaneamente sensibilizzare. Oltre al ricavato del libro, un giorno alla volta, un'ora alla volta, presentato anche recentemente alla Mondadori di Sala Consilina, c'è un progetto che coinvolge le squadre di calcio locali e coinvolge in prima persona i bambini e i ragazzi affetti dalla sindrome, per dare loro modo di calpestare un campo di calcio, far conoscere la malattia in tutta la penisola e raccogliere fondi, mettendo all'asta la maglia del capitano della squadra. Il 16 novembre indossa qualcosa di viola per promuovere consapevolezza sulla sindrome di San Filippo, e questo l'appello dell'associazione per la giornata mondiale di sensibilizzazione sulla sindrome di San Filippo 2022.